Musica Che fatica, per oggi è finito dottor Giulio Buonanotte dottoressa, io resto ancora un po' di tempo nel mio studio A fare cosa? A vedere quanto tempo ci mette questa bottiglia di plastica dei ragazzi Beh, buona fortuna Ah, mi schiena Ma, dottore, venga, guarda qui Beggia Managgia Grazie